Terra molaria è pulita, le polveri sottili hanno superato i limiti solo in estate. Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione da 8 miliardi di euro, circa 3 miliardi arrivano dai tributi. Regione ha ancora tensione tra Movimento 5 Stelle e PD per un video dei grillini da Alessandro minacciato sul web. Castellalto saranno celebrati alle 14.30 a Villa Torre i funerali del presidente della Torrese Benito Rastelli. Montorio le telecamere incastrano i ladri del centro turistico. Capodanno conto alla rovescia per la festa in piazza, per il cenone lenticchie protagoniste. Sport calcio Teramo attivo sul mercato con tanti acquisti e diverse eccessioni. Buongiorno e benvenuti al telegiornale di Teleponte. L'aria di Teramo è pulita, le polveri sottili hanno superato il livello solo 5 volte in un anno, però nel periodo estivo il sindaco Brucchi dice questo grazie all'otto zero che ha diminuito il traffico in città. C'è un problema che in questo periodo riguarda tantissime città italiane. A causa della mancanza di piogge ormai da 40 giorni anche a Teramo ci sono dei livelli di smog, di polveri sottili molto alti. A Teramo la situazione qual è? A Teramo è una situazione assolutamente buona. Le nostre centraline nell'arco di tutto il 2015 hanno rilevato sforamenti soltanto 5 volte. Voglio dire che la normativa prevede sforamenti al di sopra delle 35 volte in un anno. Quindi non è soltanto 5 volte, è soltanto in una centralina nel periodo estivo. In questo momento le centraline registrano un'area buona, noi non abbiamo sicuramente necessità e bisogno di targhe alterne, di misure eccezionali per quanto riguarda il traffico. Questo grazie, lo voglio ribadire ancora una volta all'otto zero. Io vorrei ricordare che quando non c'era ancora l'otto zero invece in diversi anni andavamo sopra i limiti molte, molte, molte volte. Negli ultimi anni questo non è più accaduto e in questo periodo, in questi 40 giorni, assolutamente l'aria a Teramo è respirabile. Ma poi basta guardare il cielo che comunque è azzurro e non è terzo come in molte altre città dove c'è lo smog appunto a cancellare l'azzurro che invece noi riusciamo ancora a vedere. Quindi da un punto di vista ambientale si può dire che Teramo è una delle poche città in Italia che può vantare assolutamente ottime questioni riguardo la salute. Guardi assolutamente sì e non lo dico io soltanto, non lo dicono le nostre centraline ma lo dice anche Italia oggi nella classifica annuale che fa sulla vivibilità delle città e Teramo da questo punto di vista, ma non solo da questo punto di vista, riveste un ruolo di primo piano. Quindi insomma i Teramani possono stare tranquilli, l'aria a Teramo è buona, è salubre e non c'è problema di polveri sottili. A Monta 7 miliardi, 977 milioni di euro, circa 1 miliardo e 400 milioni in più dell'anno precedente il bilancio di previsione 2016 della regione Abruzzo approvato in nottata dal Consiglio regionale. Sul fronte delle entrate, oltre ad un avanzo di amministrazione pari ad 1 miliardo e 536 milioni di euro 2 miliardi e 791 milioni arriveranno da tributi e gettiti erariali 237 milioni da trasferimenti correnti, 71 milioni da entrate extratributarie 541 milioni da entrate in conto capitale, 1 miliardo 979 milioni da partite di giro. Per quanto riguarda le spese invece, tra le più significative spiccano i servizi istituzionali, generali e di gestione a cui saranno destinati 438 milioni di euro a istruzione e diritto allo studio saranno destinati 4 milioni e 605 mila euro al turismo 3 milioni e 600 mila euro all'assetto del territorio e all'edilizia abitativa 30 milioni di euro allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente 50 milioni di euro ai trasporti e al diritto alla mobilità 217 milioni al soccorso civile 16 milioni alla tutela della salute 2 miliardi e 52 milioni di euro allo sviluppo economico saranno destinati 13 milioni di euro Tra gli altri provvedimenti collegati ai documenti contabili ci sono la moratoria all'apertura di nuovi centri commerciali fino a maggio 2018 la proroga per la sanatoria dei sottotetti e la previsione della servitù di allagamento nei pressi dei corsi d'acqua che istituisce il divieto di qualsiasi tipo di insediamento fino ad una distanza di 400 metri dagli argini dei fiumi Dopo la diffusione sulla rete da parte del Movimento 5 Stelle di un video nel quale si vede il consigliere regionale del PD Camillo D'Alessandro spostare con la mano il telefonino del consigliere pentastellato Pettinari che riprendeva la protesta dei grillini in consiglio lo stesso D'Alessandro è stato minacciato sul web L'esponente del PD sostiene che le immagini sono state montate ad arte Sentiamo Secondo round tra Movimento 5 Stelle e PD in Abruzzo dopo l'occupazione degli scranni della giunta da parte del Movimento 5 Stelle un video del Movimento scatena minacce via web finite anche all'attenzione della questura nei confronti del consigliere di maggioranza del PD e portavoce della stessa maggioranza al consiglio regionale Camillo D'Alessandro Nelle immagini messe in rete e riprese dai circuiti nazionali dal consigliere del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari si vede D'Alessandro sferrare un colpo verso l'esponente dei grillini che con il telefonino stava riprendendo alcuni attimi della protesta del Movimento Nel video dei pentastellati anche le immagini del presidente della regione Luciano D'Alfonso che ribalta la sua poltrona occupata dalla consigliera Sara Marcozzi e le frasi di D'Alessandro Io preferisco la rissa A me non mi si riprende Dal canto suo D'Alessandro rimanda al mittente le accuse di aggressione e lo fa usando le immagini ufficiali del consiglio regionale in cui si vede che lo schiaffo in realtà colpisce un microfono della sala Io, afferma quindi D'Alessandro in una nota Non ho aggredito nessuno ma al contrario ho ricevuto sulla rete minacce a causa di un video montato ad arte dove si accostano parole ed immagini in modo da costruire la scena di un'aggressione L'aggredito dice sono io Ho semplicemente e volutamente cercato di spostare il telefonino di un consigliere del Movimento 5 Stelle che provocatoriamente riprendeva La frase preferisco la rissa non solo era ironica ma aveva un antefatto ancora più ironico spiega il consigliere del PD riferendo di un consigliere del Movimento 5 Stelle che tempo fa in un concitato confronto con il presidente del consiglio regionale avvertì che lui era campione di box Questa, puntualizza D'Alessandro, è la verità La conseguenza del video estratto dal contesto da me riferito, prosegue D'Alessandro ha provocato reazioni violente sulla rete da parte dei militanti 5 Stelle con la conseguenza di aver ricevuto minacce anche pesanti rispetto alle quali la questura ha acquisito documentazione non si sono fermati ad aggredire verbalmente con il loro post sui social network neanche sotto le foto dei miei bambini il consiglio regionale ha espresso solidarietà ad Alessandro Saranno celebrati nella chiesa di Villatore di Castellalto tra breve i funerali di Benito Rastelli 62enne presidente della Torrese Calcio morto in un incidente stradale martedì pomeriggio lungo la provinciale 25 che collega Castellalto a Castelnuovo Vomano nei pressi della frazione Pianville al termine della ricognizione cadaverica prevista per legge eseguita nell'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo il pubblico ministero Bruno Auriemma ha firmato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari del noto dirigente sportivo Torrese secondo quanto ricostruito dagli uomini della stradale di Teramo coordinati dal sostituto commissario Antonio Bernardi a provocare l'incidente sarebbe stato molto probabilmente il fondo viscido della strada assieme ad una disattenzione del conducente nell'affrontare la semicurva nel tratto leggermente in salita della provinciale 25 decisiva per questa è stata la testimonianza del conducente di un mezzo pesante che procedeva in senso inverso che ha notato la Ford Ka di Rastelli da prima sbandare poi finire contro il terrapieno ribaltandosi dopo aver centrato un piccolo albero i soccorsi del personale del 118 sono stati inutili l'uomo è deceduto sul colpo e sono stati identificati e denunciati per concorso in furto aggravato grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza gli autori del colpo al nuovissimo centro turistico comunale di Montorio che ha fruttato ai ladri un bottino di circa 10.000 euro oltre ai danni procurati alla struttura si tratta di due montoriesi due fidanzati quarantenni che alla vista dei carabinieri hanno anche riconsegnato tutta la refurtiva materiale, audio e video l'uomo in particolare disoccupato da poco tempo è stato ripreso dalle telecamere del centro storico a guidarlo verso la refurtiva più di valore e commerciabile custodita all'interno del centro turistico è stata sicuramente la sua esperienza nel settore visto che fino a poco tempo fa si occupava di servizi e produzioni audio le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Montorio guidati dal maresciallo Giovanni Candelori hanno risolto insomma il caso in poco tempo la struttura attrezzata grazie ad un finanziamento regionale di 50.000 euro doveva essere ancora inaugurata a Martinsicura i carabinieri hanno sequestrato un quintale di botti per fine anno i carabinieri della stazione di Martinsicura al comando del luogotenente Antonio Romano hanno effettuato un capillare controllo alla rivendita di fuochi pirici gestita da un cinquantenne di San Benedetto del Tronto nel corso dell'ispezione ai locali militari hanno rinvenuto materiale esplodente di quarta e quinta categoria che veniva venduto al minuto senza la prescritta licenza rilasciata dal prefetto e adesso cambiamo argomento parliamo del Capodanno è tutto pronto per il Capodanno in piazza Martiri della Libertà a Teramo l'ospite più atteso Filippo Graziani assicura divertimento e rock and roll sentiamo c'è grande attesa per il Capodanno in piazza a Teramo soprattutto per il concerto di Filippo Graziani speriamo mi farebbe molto piacere sarà un Capodanno molto giovane anche questo mi farebbe molto piacere gli artisti lo sono sì dai insomma siamo abbastanza giovani abbastanza perché la scelta di Teramo? perché diciamo che Teramo è da dove è partito tutto e quindi da un certo punto di vista e quindi sono contento di fare questo 31 perché è un'occasione particolare per me perché poi mi fermerò per un per un po' di tempo insomma ancora tempo indeterminato soprattutto con le canzoni di papà perché mi concentrerò sulle mie cose quindi è l'ultima data che faccio fino a nuovo ordine quindi sono felice di farla a Teramo sono felice di insomma di chiudere un capitolo nella insomma nella città dove è partito tutto tu e la tua band vi esibirete subito dopo il Brindisi sì aprirete il 2016 Teramano sì e poi ci tengo a ricordare che sul palco con me ci saranno oltre al mio fratello Tommy ci saranno Federico Poggi Pollini e Mel Previte dalla band di Luciano Rigabù e quindi due professionisti grandissimi due amici e quindi è un'occasione per fare insomma un po' di rock and roll per l'ultimo dell'anno qualche anticipazione su quello che ascolteremo? ma ci divertiremo quindi ovviamente ci sarà sicuramente una ci sarà una grossa fetta del concerto dedicato a papà ma faremo anche faremo anche insomma dei pezzi per divertirci proprio per fare un po' di casire insieme quindi faremo delle cover di gruppi americani anche insomma ci prenderemo anche qualche sfizio ci toglieremo anche noi sul palco stasera vi aspetto tutti in piazza a cominciare dal Capodannino alle ore 16 per i più piccoli e poi le 22 con il Capodanno ci sarà il grande Filippo Graziani che tutti attendono ma tanti artisti terramani tantissimo divertimento quattro braceri enormi per riscaldare l'ambiente ma non ce ne sarà bisogno perché ci penserà la musica Gran Capodanno anche a Roseto serata ricca di ospiti all'Arena Quattro Palme sentiamo tutto pronto all'Arena Quattro Palme a Roseto degli Abruzzi per un Capodanno molto molto interessante numerosi gli artisti che arriveranno e tante sorprese ma in particolar modo chi saranno questi artisti? Il cast sarà composto dai seguenti artisti l'ex Miss Italia Nadia Bengala presentatrice e conduttrice della serata Lucia straordinaria cantante di Uno Mattina a Rai Uno che tra l'altro ha inciso un disco molto famoso in Francia si chiama Vivre l'Amour poi ci sarà Viola Valentino lo special guest dal grande successo degli anni Ottanta Comprami poi ci sarà Aurelio famosissimo qui a Teramo cantante dei Trex con il suo strepitoso successo Long Train Running poi c'è la Diba Band live di Uno Mattina sempre Rai Uno e poi tanti altri ospiti e ci sarà vedrete qualche bella sorpresa E poi sarà possibile chi vorrà anche degustare a rosticini naturalmente a mezzanotte lenticchia e spumante Aggiungo anche vin brulè perché farà particolarmente freddo così dicono le previsioni speriamo che una volta tanto non siano reali e ci saranno tante altre sorprese ci sarà verrà preparato il miglior selfie tanti giochi sarà un capodanno in movimento anche perché bisogna scaldarsi essendo l'aperto poi c'è una cosa importantissima una pista di pattinaggio su ghiaccio che farà da coreografia a questo spettacolo che spero sia il più bel capodanno degli ultimi tempi Secondo uno studio di Coldiretti la spesa a tavola per il capodanno sale a 95 euro a famiglia più il 25% rispetto allo scorso anno anche le lenticchie di Santo Stefano di Sessanio tra i prodotti più gettonati per il cenone di stasera sentiamo Saranno le lenticchie di Santo Stefano di Sessanio le protagoniste della tavola abruzzese di Capodanno i buon gustai e gli appassionati del made in Italy alimentare secondo una stima di Coldiretti non rinunceranno ad uno dei prodotti tradizionali più conosciute ed apprezzati dagli abruzzesi e non solo per un cenone per il quale saranno destinati in media 95 euro a famiglia il 25% in più dello scorso anno segno che gli italiani preferiscono una buona cena piuttosto che uscire nelle piazze al cinema a teatro nei concerti o nelle discoteche dopo i recenti fatti di cronaca dalle stime di Coldiretti emerge che il 31% degli italiani ha tagliato la spesa per i divertimenti di fine anno quasi due italiani su tre il 63% consumeranno a casa il cenone di fine anno divisi tra chi preferisce organizzare nella propria abitazione il 39% e chi è stato invitato da amici o parenti il 32% mentre tra chi sceglie di mangiare fuori il 9% sottolinea Coldiretti va al ristorante e il 3% preferisce l'agriturismo dove cresce la presenza di giovani che trascorrono la notte più lunga dell'anno nella tranquillità delle campagne dopo spumante panettone sul podio dei prodotti irrinunciabili delle feste di fine anno salgono secondo Coldiretti il cotechino e lo zampone che vengono gustati a tavola da più di due italiani su tre se lenticchie e cotechino hanno un consumo soprattutto nazionale per lo spumante italiano la maggioranza dei botti avverranno all'estero dove per le sole festività di fine anno salgono a 190 milioni le bottiglie stappate fuori dai confini italiani secondo la stima della Coldiretti si tratta di un record storico per lo spumante made in italy all'estero dove si registra un balzo del 13% nelle bottiglie esportate sulla base dei dati istat nei primi nove mesi del 2014 la CGL denuncia l'Abruzzo è ancora in forte difficoltà serve un'avvertenza mezzogiorno in servizio l'Abruzzo deve ancora marciare a lungo prima di riprendere ritmi di sviluppo in grado di recuperare almeno l'occupazione persa in questi sette anni di crisi lo afferma il segretario generale della CGL Abruzzo Sandro del Fattore che nel tracciare un bilancio del 2015 sottolinea come le regioni del mezzogiorno debbano aprire una vera e propria avvertenza con il Governo nazionale nel terzo trimestre del 2015 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente secondo i dati elaborati dalla CGL l'Abruzzo registra la perdita di 4.000 posti di lavoro passando da 471.000 a 460.000 occupati mentre dall'inizio dell'anno in corso si sono persi 35.000 posti di lavoro il tasso di disoccupazione è passato dal 12,6% all'11,5% dato contraddittorio dovuto al fatto che le persone in cerca di occupazione sono passate da 68.000 a 61.000 perché scoraggiate per quanto riguarda gli altri indicatori il tetto della cassa integrazione in questi anni di crisi ha fatto perdere all'Abruzzo circa un miliardo di euro di salari la CGL ha auspic dunque un'avvertenza con il Governo nazionale da parte delle regioni del mezzogiorno perché in questi anni sono state tagliate tutte le risorse ordinari destinati al sud e se non si farà questo saranno sempre più difficili politiche incisive di investimenti e di sviluppo Alcuni senza lo stipendio di novembre tutti i circa 2.000 dipendenti senza la tredicesima e questa è la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative sociali della provincia di Teramo Secondo la CGL Funzione Pubblica le responsabilità sono da dividersi tra dirigenti delle stesse cooperative ed enti pubblici che ritardano i pagamenti per i servizi svolti in difficoltà i dipendenti delle cooperative sociali lo denuncia in qualche modo la CGL Funzione Pubblica Marcattili Sì nella nostra provincia abbiamo più di 2.000 dipendenti delle cooperative sociali e di queste lavoratrici che sono la maggior parte donne che svolgono un servizio essenziale perché è un servizio alla persona molti enti pubblici hanno esternalizzato o appaltato le cooperative sociali diversi servizi più del 60% di questi dipendenti non hanno percepito la tredicesima qui c'è una responsabilità primaria delle cooperative stesse però anche la politica ha una sua responsabilità perché molti enti comuni ambiti sociali eccetera non pagano da mesi le cooperative per cui sono in sofferenza quindi alcune cooperative vanno in difficoltà e non riescono poi a a retribuire alcune cooperative vanno in difficoltà e non riescono a retribuire però il problema è che una volta la cooperative sociale aveva una funzione sociale oggi sono delle imprese come ce ne sono tante altre nel mercato e noi vediamo che i dirigenti delle cooperative hanno un reddito molto alto i dipendenti un reddito molto basso che state facendo voi per sbloccare questa situazione ma noi abbiamo fatto nei diversi enti anche nei confronti delle cooperative sia diverse vertenze che diversi che diversi incontri però qui purtroppo la situazione è sempre più 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 precaria e più drammatica ci sono come dicevo prima più del 60% di questi lavoratrici che non hanno percepito la tredicesima e molti non hanno percepito neanche lo stipendio di novembre per cui qui o la politica batte un colpo ma noi vediamo che a livello regionale sul sociale non c'è stato nessun cambio di rotta dal governo Chiodi al governo D'Alfonso anzi c'è stata una continuità che è drammatica cani da tartufo provenienti da tutta Italia si ritroveranno domenica 3 gennaio a Tossicia per una gara amatoriale all'americana che si terrà all'interno dell'ippodromo l'iniziativa è organizzata dall'associazione Pro Tartufo Terramano il servizio domenica 3 gennaio all'ippodromo di Tossicia si svolgerà la gara amatoriale all'americana sul ring di cani da tartufo è un'iniziativa particolare sì la particolarità principale risiede nel fatto che è una gara al coperto su un immobile molto bello che è un ipodromo che si trova a Tossicia molto grande molto bello una struttura in legno che consente di vivere questa manifestazione al coperto e le modalità quali sono? la modalità è quella più entusiasmante all'americana scontro diretto sul ring entreranno due cani in posizioni contrapposte e si affronteranno a vicenda chi raccoglie quattro tartufi sui sette nascosti sotto il suolo vince la gara e l'altro viene escluso poi entreranno altre due coppie stessa modalità altre due coppie stessa modalità i vincitori della prima coppia poi faranno lo scontro con gli altri vincitori della coppa seguenti alla manifestazione parteciperanno tartufai che arrivano da tutta Italia abbiamo invitato tutte le associazioni di tartufai anche del Piemonte di Cuneo anche da Perugia e dalle altre regioni come accennavo queste manifestazioni sono importanti soprattutto per accendere il faro su questo settore che in Abruzzo può rappresentare uno diciamo che stiamo non agli inizi però c'è tanto lavoro ancora da fare sotto l'aspetto della valorizzazione e soprattutto della tutela di questo prodotto perché l'Abruzzo è statisticamente con lavori fatti dall'Arsa quindi l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo che ha fatto un lavoro egregio negli anni precedenti ha mappato tutto il territorio ha censito 1100 tartufaie quindi sarebbe opportuno mettere in pratica in queste tartufaie delle buone pratiche mettere in atto delle buone pratiche di tutela di questi luoghi perché la regione Abruzzo è la seconda regione in Italia per la produzione del tartufo quindi la regione ultimamente ha istituito il logo del tartufo d'Abruzzo quindi da qui si può partire per un'ulteriore valorizzazione di questo prodotto Ad un anno dalla scomparsa di Pino Daniele Marco Pediconi ed Antonietta Menegatti in Artedea vogliono vissare l'omaggio dello scorso anno stesso luogo e stessa ora al Tempio della Birra in Contrada De Contro 85 a Teramo martedì 5 gennaio a partire dalle 21 Marco Pediconi ed Edea renderanno omaggio al grande Pino Daniele insieme ad altri artisti teramani e adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni in Abruzzo al pomeriggio sereno sui settori costieri sereno sui settori appeninici in serate nella notte parzialmente nuvoloso sulle zone interne e sui rilievi parzialmente nuvoloso sulle zone marittime temperature in diminuzione massime comprese tra 8 e 11 gradi nelle conchie aquilane e marsicane tra 12 e 15 gradi sulle pionure adriatiche venti deboli nord orientali mari poco mossi in provincia di Teramo in serate nella notte moderatamente nuvoloso sui rilievi parzialmente nuvoloso sui settori adriatici temperature lieve diminuzione massime comprese tra 9 e 12 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 8 e 11 gradi sulle coste venti assenti o deboli nord orientali mari poco mossi ed eccoci allo sport ci occupiamo di calcio il Teramo sarà protagonista del mercato di riparazione tra acquisti e eccessioni la società bianco-rossa porterà a termine più di 10 movimenti dettagli nel servizio la finestra invernale di mercato potrebbe trasformare lo spogliatoio del Teramo in un porto di mare tra giocatori che partono e che arrivano la società del padron campitelli dovrebbe portare a termine in tutto una decina di movimenti una vera e propria rivoluzione nell'organico quindi che da gennaio in poi sarà chiamato a centrare l'obiettivo della salvezza il primo movimento ufficiale è arrivato ieri con l'addio di Simone Calvano che iniziò anno nuovo passerà al tutto cuoio per la sua sostituzione in mediana piace Cruciani ma in questo caso va valutata la disponibilità del Benevento a trattare la cessione del giocatore sempre vivo poi anche l'interesse per dettori della Carrarese da battere però c'è la concorrenza dell'Arezzo che si è mossa per prima e con più decisione sul giocatore a proposito di Carrara in attacco la pista più battuta è quella che porta di infantino il giocatore piace al Teramo è anche parecchio ma la trattativa è tutt'altro che in discesa bisogna risolvere infatti in primis quello del costo del cartellino chi lo vuole infatti deve tirare fuori quasi 100.000 euro cash poi ci sono tanti rivali da battere infantino infatti è sul taccuino di una big come il Siena che deve sostituire Bonazzoli passato al Cittadella sul fronte uscite il più richiesto è paradossalmente uno dei giocatori che finora ha diluso di più l'attese quello è ricolto bello partito come titolare è finito via via ai margini della rosa il difensore infatti ha tante richieste il grossetto si è già fatto avanti inutilmente nelle ultime ore poi è spuntata anche la candidatura dell'Aquila società tra le cui fila militano De Francesco e Ceccarelli giocatori che Vivarini apprezza molto non è da escludere del tutto la possibilità di uno scambio alla pari e con questo è tutto l'informazione su Teleponte torna alle 19 e 15 grazie per l'attenzione buon pomeriggio e buon fine anno a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti